Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove adesso per lavori ci sono un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, con chiusura dell'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze, e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. In A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bipio con la variante di Valico in direzione Bologna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!